con 500 yen alla macchina degli ombrelli in giappone si mettono qua i soldini e poi eccolo qua si può prendere un ombrello veramente comodo e utile si trovano praticamente ovunque come tutti i distributori automatici ogni metro se ne trovano di vario genere al prossimo video da giappone visitate il mio sito www.marcotani.it ciao ciao